Nella prossima puntata di Niente come sembra, intitolata all'agenda che ha affossato l'economia italiana e come uscirne, ripercorreremo le tappe del declino economico dell'Italia, che nei primi anni 90 era la quarta potenza mondiale. Che ruolo hanno avuto in questo processo l'Unione Europea e l'Euro? L'avvocato Marco Mori, il filosofo Davide Ramunno e il giornalista Fabio Dragoni proveranno a rispondere a questi interrogativi. Non perdetevi l'appuntamento lunedì 12 febbraio sul canale 17 o sulla pagina Facebook di Telecolor.